Siete il figlio di un nobile della Francia settentrionale, nato pochi anni dopo l'anno 1000. Anzi, per la precisione, siete il figlio nato all'interno del matrimonio non riconosciuto di quel nobile. Tanto che tutti vi chiamano, poco rispettosamente, il bastardo. E in effetti pure vostro padre, quel ducato, se l'è preso un po' chissà come, secondo alcuni addirittura avvelenando vostro zio. E visto che ci siamo, anche voi, il ducato in questione, lo ereditate solo dopo che il vostro padre non solo ha costretto i vassalli a riconoscervi, ma poi se n'è andato a fare le crociate e non è più tornato. In tutto questo, un bel giorno andate a trovare vostro cugino, che è il re d'Inghilterra, e gli dite che se un giorno lui morirà senza figli, voi vi proclamerete suo erede legittimo. Pochi anni dopo, indovinate un po', anche lui muore. Ma il cognato di vostro cugino sale, lui, sul trono di Londra. Alla fine, visto che non siete, tipo, da stare appresso a tutte queste complicazioni, prendete, radunate un'armata in Normandia, che è il vostro ducato di cui stiamo parlando dall'inizio, sbarcate in Inghilterra con una specie di dei al contrario e sconfiggete il cognato di vostro cugino in un posto chiamato Hastings. Ecco, da allora nessuno vi chiamerà più il bastardo. Da allora voi sarete per tutti e per sempre Guglielmo il Conquistatore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao a tutti, sono Riccardo Masini e vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Grandi Manovre, lo spazio nel canale Io Gioco, la rubrica del canale di Io Gioco, in cui parliamo della storia e dei giochi che ci aiutano a riviverla. Ora, dall'introduzione forse non avrete capito un accidente, perché vi assicuro che la storia è veramente complicata, anche per un appassionato di storia, perché con tutti quanti questi intrighi dinastici, questi cugini, questi zii, queste cose, che ogni tanto qualcuno muore e poi un altro si mette in testa di prendere il suo posto, vi assicuro che non è assolutamente facile. Ok, facciamo un po' di ordine. Di che cosa parliamo innanzitutto in questo Io Gioco di un anniversario, come sempre, e l'anniversario è quello della battaglia di Hastings, dell'ottobre 1066. Quindi siamo qualche decennio dopo l'anno 1000. Ok, ma di chi parliamo, soprattutto non solo di cose, di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di questa persona che si chiama Guglielmo, Guglielmo il Conquistatore, che all'inizio nessuno conosce così, perché tutti conoscono con tutto un altro nome, e quell'altro nome è Guglielmo il Bastardo. Perché Guglielmo il Bastardo? Perché nasce all'interno del matrimonio del padre Roberto I di Normandia. Solo che, intendiamoci, non è che sia un figlio illegittimo in quanto tale, che il matrimonio all'inizio non è molto riconosciuto dalla Chiesa, addirittura viene definito matrimonio more danico, cioè amo dei danesi. I danesi, all'epoca, erano i barbari, matrimonio germani. Insomma, la Chiesa non lo riconosce all'inizio. Tutti in quel magnifico covo di Serpi, che è l'Europa, non solo l'Inghilterra, tutta l'Europa settentrionale di quell'epoca, beh, tutti quanti prendono questa scusa per non riconoscere tanto la discendenza di questo ragazzo, che da subito appunto viene chiamato Guglielmo il Bastardo. Ma anche il padre ha i suoi problemi, perché il padre, che è Roberto I di Normandia, entra in rotta con chi? Con il fratello Riccardo III di Normandia. Attenzione, non sono quelli d'Inghilterra e quelli arriveranno molti secoli dopo. Troverete un sacco di Roberto, di Riccardo, di Edoardo, di Guglielmo in questa storia. Sono tutti nomi normanni. Anche io mi chiamo Riccardo perché abbiamo delle antiche ascendenze normanne in famiglia. Quindi il discorso è questo. Lì si chiamano tutti più o meno nella stessa maniera. Bene. Allora, Roberto I è entrerotta col fratello Riccardo III di Normandia. C'è una specie di guerra civile e Roberto I la perde. Solo che Riccardo III ha la buona creanza di morire poco dopo. Secondo alcuni anche con un piccolo aiutino da parte di Roberto I. Insomma, alla fine questo ducato arriva a Roberto I, che quindi cosa fa? È pronto a darlo al figlio Guglielmo in eredità. Fin qui, più o meno. Tutto bene? Ok. Poi, come fanno alcuni all'epoca, tanto per complicare le cose, per complicarsi la vita, cosa fa Roberto I, cioè il padre di Guglielmo? Dice, ah, ma c'è questa bella idea che c'hanno in tanti che si chiama crociata. Andiamo anche noi a fare questa bella crociata. Sì, ci va, solo o solo che sulla strada del ritorno muore pure lui. Malattia improvvisa. Beh, insomma, alla fine Guglielmo, vuoi come non vuoi, si trova tra le mani questo regno. Bene. A otto anni però. Questo è il problema. Cioè, è veramente un bambino. Quindi, a questo punto parte tutta una lunghissima serie, indovinati di cosa? Di rivolte, di guerre civili interne alla Normandia per avere il dominio del Ducato. Insomma, fa di tutto, ma alla fine, anche con l'aiuto del Redi Francia, Guglielmo sbaraglia tutti. Nel frattempo è cresciuto, è diventato un ragazzo. Insomma, si riprende in mano il Ducato. Un effetto collaterale di questo è come mai ci abbiamo così tanti normanni in Sicilia? Poi, più o meno contemporaneamente, perché sono molti, sono anche parenti e controparenti di Guglielmo che sono stati sconfitti da Guglielmo il re di Francia che cosa fanno? Vanno giù in Sicilia. O alcuni anche alle crociate, a loro volta. Quindi, insomma, è tutto un grande, che terrassante, insomma, è tutto un grande rimoscolamento di normanni che se ne vanno da tutte le parti d'Europa. Alla fine, al centro, nella Romandia, rimane Guglielmo. Bene. E via. O che cosa succede nel frattempo? Nel frattempo c'è un altro piccolo particolare che sta esattamente sopra la Romandia che si chiama Inghilterra. Questa simpatica isoletta, enorme, ovviamente, in cui i normanni non ci stanno, eh? No. Ci sono chi? I Sassoni. Ora, se i normanni sono tutte quante stilte nordiche, eccetera, insomma, tutte di origine, antica origine scandinava, eccetera, però, banalmente, questi sono più germanici, quindi sono più legati al discorso germanico. Benissimo. Sono Sassoni. Se ne stanno per cavoli loro. Non rompono le scatole a nessuno. Il problema qual è? Nel 1051, siamo arrivati nel 1051, l'ancore giovane Guglielmo, che cosa fa? Prende e va in Inghilterra e va a trovare il re d'Inghilterra. Ovviamente che fra l'altro in tutto questo è anche il suo cugino. Ok, si chiama Edoardo, detto re Edoardo, il confessore. Bene. Che cosa fa? Dichiara che se il re Edoardo, il confessore, che all'epoca non ha eredi, morirà senza eredi, lui rivendicherà il trono d'Inghilterra. Non è una cosa molto bella da fare tra cugini, però dice se te mori non ti preoccupare perché tanto il trono non è che c'è chissà che cosa. In effetti è anche un pensiero giusto. Sarò io a prenderlo in mano. Il tuo paese non cadrà nella guerra civile. Che cosa pensi Edoardo, il confessore? Ma avrei qualche dubbio. Comunque insomma, questo seme è gettato. Nel frattempo cosa fa Guglielmo? Si sposa pure lui. Si sposa con Matilda delle Fiandre. E qui introduciamo anche il discorso delle Fiandre, quindi Belgio-Olanda, gli attuali Belgio-Olanda. Anche qui, adesso un vizio di famiglia, il matrimonio un po' strano all'inizio, non è riconosciuto da tutti, però alla fine ci riesce, consolida ulteriormente il proprio potere. E in questo momento entra un altro personaggio. Quest'altro personaggio si chiama Harold Godvinson. Non è un Guglielmo, non è un Roberto, non è un Riccardo, ma si chiama Harold, quindi è un sassone, perché il nome è tipico, Edgar, Harold, eccetera. Tipico nome. Sassone. Bene. Questo Harold Godvinson si trovava in Francia ed era rimasto prigioniero perché c'erano stati degli altri problemi anche con i sassoni. Insomma, sappiate che stava lì bello prigioniero. Nelle varie lotte che comunque Guglielmo fa in Francia, cosa fa? Lo libera dalla prigione in cui era finito a causa dei suoi nemici. In cambio, Harold Godvinson, cosa fa? Harold Godvinson fa atto di sottomissione. Si faceva come ringraziamento e dice Ah, da adesso tu mi hai salvato la vita, mi hai liberato, da adesso io metto la mia spada al tuo servizio. Bene. Guglielmo, che insomma, sa riconoscere la gente, delle gente interessate, cosa fa? Certo. Anzi, visto che c'è dammi una mano e aiutami a picchiare i bretoni perché c'è la Britannia, non la Gran Bretagna, la Britannia, cioè il pezzo della Francia, c'è un'altra campagna. Harold combatte sotto le insegne di Guglielmo. Harold Godvinson sulla base dell'atto di sottomissione che ha fatto. Benissimo. Secondo alcuni, oh, qui è sottile, secondo alcuni cronisti dell'epoca, che però sono da prendere adesso, vedere perché tanto con le molle, che cosa fa Harold Godvinson all'interno del suo atto di sottomissione, cioè la dichiarazione che combatterà e sarà fedele a Guglielmo, combatterà sotto le bandiere di Guglielmo, all'epoca ancora il bastardo di Normandia, e gli sarà fedele. Rinuncia a tutte le sue pretese sul trono d'Inghilterra, perché anche Harold, per vie traverse, che adesso non vi sto a spiegare, è parente di Edoardo il Confessore, cioè l'attuale re d'Inghilterra. Secondo alcuni cronisti include anche questi, ma io lo so che tu stai, lo sanno tutti che tu vuoi l'interno d'Inghilterra, tranquillo, io, sì avrei qualche pretesa, ma è roba da poco, no, non ci sto, io rinuncio tranquillamente, sono sciocchezze, sono stupidaggini. Oh, qual è il problema, voi direte, perché Harold e Guglielmo, l'avete capito tutti, sono i due contendenti che si ritroveranno sul campo di Hastings, Sassone e Normani. Qual è il problema? Che i cronisti che ce lo dicono tutto questo sono vescovi della Normandia, piazzati lì da Guglielmo stesso, o cronisti molto vicini a Guglielmo e tra questi ci sarà anche il famoso Arazzo di Bagliè, un arazzo bellissimo che conoscono in tanti e mi rende un'immagine uno lo vede subito, che dice ma attenzione, Edoardo aveva, appunto, lo chiameranno Spergiuro, poi dopo Harold, scusatemi, e Harold lo chiameranno Spergiuro perché sta per succedere qualcosa, peraltro avete capito già che cosa succede, beh, però attenzione perché questi, queste fonti sono molto vicine a Guglielmo, come sia, come non sia, la situazione è questa, quando sta per succedere quello che alla fine si aspettano tutti. Ok, me ne sono reso conto nella prima parte forse vi ho un po' spoilerato il proseguo della storia, però, che spoiler è? il vecchio re, indovinate, fa esattamente quello che fanno sempre i vecchi re, muoiono, il vecchio re, re Edoardo il confessore, 5 gennaio 1066, Edoardo, muore, e indovinate un po', senza eredi, se non qua la storia come andava avanti. Benissimo, viene sepolto abbastanza in fretta nella cattedrale di Westminster, quella che trovate ancora oggi in Inghilterra, che è stata consacrata tipo meno di due settimane prima, giusto in tempo, perché tanto si sapeva che ecco, il vecchio prima o poi, che cosa succede a Londra? Il caos, perché non ha eredi e noi su questo benedetto trono qui ci mettiamo, ovviamente partono 50 pretendenti, ci sono varie cose, vari giorni confusi, varie cose dinastiche, no, tocca a me, no, sono io, sono più diretto, eccetera. Alla fine, il nominate che arriva, Harold Godwinson, bello come il sole, che dice, beh, sapete che c'è, forse non sono proprio l'erede più diretto, però quello che ha più gente al suo servizio, più fedele a lui, anche perché se l'è fatta dalle campagne in Normandia contro i Brettoni, quello che è più bravo a menare le mani sono io, quindi tocca a me, scavalcando allegramente l'illegittimo erede diretto Edgardo. Quindi, Harold cosa fa? Dai nobili sassoni della sua parte, basta, il re e lui si fa nominare re. in tutto questo, proprio esattamente come nelle serie televisive, nei film, partono che cosa? I presagi, i presagi di sventura, uno di questi è la cometa, tradizionalmente denominata, tradizionalmente nota come presagio di sventura, bene, ovviamente quell'anno chiuso arriva la cometa di Alley e tutti quanti dicono questa cometa porterà sventura al regno. Ma, Harold, non gliene importa niente, va avanti. Bene, qui abbiamo detto parte l'arazzo di Baillet, che è tutta quella, arazzo, meraviglioso, che ci narra di tutta la storia di Guglielmo, della lotta tra Guglielmo ed Harold e come abbiamo detto denuncia lo spergiuro di Harold. Prendete cose dice l'arazzo? Cosa fa Guglielmo? Ovviamente dice Ah, lui mi aveva giurato che non avrebbe mai avanzato pretesi sul trono d'Inghilterra, egli è fedifrago, cioè rompitore della fede, quindi è traditore, ha rotto la parola data, io adesso raduno una marea di guerrieri, prendo e parto e vado in Inghilterra e conquisto il trono che è mio perché l'erede più forte, in effetti sono io, diciamo perdere legittimità che qua non c'entra assolutamente nulla. Ok, quindi cosa fa Guglielmo? Questa reazione pessima che la prende malissima questa cosa, raduna tutti i guerrieri normanni che può, una serie di mercenari, si fa dare pure l'appoggio del Papa in tutto questo, Papa Alessandro II e quindi raduniamo tutte queste forze, prendiamo e andiamo. Ovviamente Harold vede questi preparativi ma Harold in quel momento ha anche altra roba a cui pensare perché la sua vita è diventata improvvisamente molto complicata perché la sua petra di risalto non è poi così forte e ci sono altri pretendenti ce ne sono diversi soggetti immaginate in quel momento l'Inghilterra comincia ad essere invasa un po' da tutte le parti e Harold che sta al centro comincia a correre da tutte le parti con questi Sassoni a tappare con i suoi guerrieri a tappare queste varie invasioni che arrivano da tutte le parti l'invasione più pericolosa è quella di Harold Harald Ardrada che era Harald Ardrada Harald Ardrada oltre adesso non scioglilingua era il potente re di Norvegia che aveva combattuto con i suoi uomini addirittura per l'impero romano d'oriente a Bisanzio erano i Varjaghi la cosiddetta guardia varangiana bene erano fortissimi crestoni al norveghesi alti un metro e novanta che per l'epoca erano giganti capiglioni biondi ascione due mani proprio veramente quelli da fin corazzati dalla testa ai piedi cosa fanno arrivano nel nord in Inghilterra assieme a lui c'è anche belle famiglie dell'epoca il fratello di Harold Toastig Toastig Godwinson che pure lui pensa io forse posso dare un po' di legittimità a tutta questa storia magari mi ci scappa qualcosa e quindi cosa fanno invadono in Inghilterra Harold corre a nord ora ci sono due grandi battaglie allora la prima è quella di Fulford in cui questi invasori prendono e sbaragliano i nobili sassoni settentrionali la seconda la seconda è quella di Stanford Bridge e siamo arrivati al 25 settembre 1066 a Stanford Bridge Aaron vince ma vince molto bene perché perché uccide in una botta sola sia Harold Ardada che Toastig Godwinson anche il fratello muore nella battaglia ce l'abbiamo fatta uno direbbe allora è a posto può andare giù tranquillamente a sud a bloccare Guglielmo no perché perché nel fare questo fa due cose Harold una giusta una un po' meno giusta quella giusta è quella di mandare la sua flotta per bloccare i rifornimenti bloccare la flotta norvegese e ok lo fa però per fare questo sposta la sua flotta e quindi la manica è aperta ci sono meno navi sassone e quindi le navi normanne possono sbarcare con l'esercito di Guglielmo il conquistatore ok la seconda cosa che forse non è tanto giusta è che dopo tutto quante queste battaglie cosa fa Harold Harold in inglese dice disband cioè praticamente congeda parte del suo esercito che è anche esausto che è anche stanco che molti hanno avuto anche alcuni nobili sono anche un po' stanchi di combattere tutte le parti lo scioglie quindi rimane solo con la sua con due grandi pezzi a fronteggiare i normanni di esercito il primo pezzo è quello della sua guardia personale gli huskers cioè i nobili più vicini a lui quindi i comandanti più vicini a lui personalmente legati da appunto da un legame personale e i third si basa molto sui third cos'è è la milizia cioè la milizia locale più o meno più o meno armati cittadini e guerrieri contadini eccetera sono armati più o meno così che ovunque sanno combattere e quindi sono pronti a marciare con lui però non è un esercito dello stesso livello con cui ha sconfitto Harald e Tostig e forse sottovaluta un po' guglielmo e questa è una cosa pessima da fare con guglielmo di normandia va giù in tutta fretta però neanche tanto perché si attarda un po' nella zona di londra a far riposare i suoi uomini però alla fine arriva però abbiamo detto ha perso tempo in questo tempo che cosa è successo i normanni si sono consolidati non è che hanno puntato subito su no no guglielmo uno metodico e si sono accampati nei pressi della Senlac Hill cioè della coniglia di Senlac dove guglielmo ha fatto addirittura erigere un castello ora non vi immaginate il castello però insomma una serie di palizzate una serie un campo fortificato bene gli servirà molto perché secondo alcuni in questa fase appena arriva Harald si trova che se non mandi in avanti tenta una cosa di sorpresa vediamo un po' se li becchiamo nel loro campo sono ancora in ordine di marcia però no però non funziona sia perché si sono già fortificati i normanni ma perché i normanni hanno un battaggio tattico molto particolare hanno la cavalleria mentre l'esercito sassone è un esercito principalmente di fanteria e al massimo i nobili vanno a cavallo ma solo per spostarsi da un punto all'altro poi combattere tendenzialmente combattono a piedi l'esercito normanno ha molta cavalleria sia pesante la cavalleria corazzata d'impatto ma anche molta cavalleria leggera e questa cavalleria leggera cosa fa come tutte le cavallerie leggeri nella storia fa per illustrazioni fa ricognizione e nella ricognizione vede oh stanno arrivando quei sassoni mica ci facciamo fregare di sorprese e quindi quando arriva Harold i normanni sono pronti ad accoglierlo perché la loro cavalleria ha visto arrivare questa massa di fanteria l'ha vista arrivare con un bel anticipo e quindi la battaglia si combatterà lì nei pressi del villaggio di Hastings ok siamo arrivati al finale di stagione di questa serie il finale di stagione qual è? la battaglia classicamente la grande battagliona finale bene qual è? Hastings quando siamo? ok siamo il 14 ottobre abbiamo detto ottobre 14 ottobre 1066 qua c'è la battaglia come sono i due schieramenti due eserciti che abbiamo visto sono arrivati sul posto e sanno che combatteranno lì dopo diversi giorni allora da un lato ci abbiamo i Sassoni ora sulle stime secondo alcuni siamo intorno 12-13 mila Sassoni ma è qua anzi è quasi esclusivamente sono esclusivamente esercito di fanteria fanteria variamente armata abbiamo detto gli Asgard immaginatevi fanteria più pesante più corazzate i third più militari inizia però comunque si hanno i grandi scudi dei Sassoni le lance le asce quindi insomma combattere sanno combattere è un po' di scremagliatori sparsi i normanni sono un po' di meno siamo vicini ai 10.000 forse anche meno perché sono arrivati pure dalla Normandia quindi immaginatevi i problemi logistici di fare questo sbarco dalla Normandia in Inghilterra però cos'hanno 2.000 di loro almeno sono cavalieri sono cavalleria da battaglia anche loro veramente armata però molta è cavalleria pesante quindi proprio la classica cavalleria d'impatto non le armature a piastre le guerre molto dopo però belle colte di maglia spesse bella lanciona sotto sotto la spalla pronti a caricare a fondo ok i sassoni ovviamente cosa fa Harold che sta lì Harold si schiera sulla difensiva non può attaccare un esercito di cavalleria e quindi tiene la posizione sulle colline sulla collina ora il punto esatto della battaglia secondo alcuni ancora un pochino in dubbio però comunque c'è una collina loro sono sulla collina quindi chiaramente ti normani dovranno caricare verso l'alto ok e i third i third fan hanno una tattica molto particolare immaginatevi enormi scudi messi così tutti quanti così in linea a fare un enorme muro e il muro di scudi lo shield wall cioè ogni scudo protegge me e un pezzo del vicino e viceversa quindi c'è questo enorme muro su più file contro cui si devono andare a cozzare a sbattere letteralmente i cavalieri normani questo è il muro di scudi tattica classica del sasso classico esercito di franteria e questa tattica è ancora più utile perché i third che ok non sono chissà quanto ben addestrati però la sanno fare perché devono stare fermi reggere la botta e poi contrattaccare non ci vuole chissà quale addestramento devi essere un bel ragazzone vigoroso e avere coraggio avere un po' di fegato e ce la fai a fare questa tattica la fate tutti assieme la fai tu eppure tuo cugino visto che siete una milizia locale che c'hai a bianco quindi è facile è facile farla quindi reggi e questo è quello che succede all'inizio della battaglia perché voglielmo l'abbiamo detto ormanno non è non è stupido cosa fa all'inizio beh c'è un muro di scudi sì col cavolo che io carico dritto con la mia cavalleria cosa faccio mando avanti un'arma particolare gli arcieri io ho diversi arcieri tirano le frecce questi qua bugheranno questa fanteria la manderanno in rotta problema muro di scudi funziona contro un cavallo come con una freccia boom arrivano le frecce tra 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 e questi reggono quando poi entra entra la fanteria dopo queste schermaglie tra gli arcieri da un lato gli arcieri ormanni dall'altro i giavellottiri sassoni che tirano i giavellotti più pesanti dall'altro eccetera arriva la fanteria normanna e non ce la fa a bucare questo un punto questo muro questo muro di scudi viene rispinta indietro cerca a questo punto la cavalleria anche la normanna fa alcune cariche ma non riesce ad accaricare a fondo quindi anche lei viene respinta insomma l'inizio della battaglia è un disastro per i romanni non ce la fanno finché c'è un qualcosa una divisione bretone al servizio di normanni perché i romanni avevano sconfitto i bretoni quindi alcuni bretoni combattevano per loro ma non erano troppissimo fedeli comunque sì una divisione bretone cosa fa si sparge la voce che Cuglielmo stesso sia stato ucciso e questa divisione bretone all'arrivo di questa voce basta la battaglia è finita i normanni hanno perso il Guglielmo il duca di Normandia è stato ucciso andiamo e al re addirittura si scompagina cosa succede? due cose prima di tutto la prima cosa è che Guglielmo lui stesso sente questa voce e dice no col cavolo mica sono morto cosa fa? prende l'elmo il suo elmo lo tira via proprio se lo tira dalla testa e comincia a cavacare avanti e dietro avete presente? Teoden ai campi del Pelennaro nel ritorno del re no no sono io ci sono infatti probabilmente con la scena in parte ispirata da questa cosa cioè guardate che sono ancora vivo caricate caricate io sono ancora qua sto ancora bene si toglie l'elmo si fa vedere prima cosa seconda cosa quel pezzo della linea dei sassoni che era davanti alla divisione bretone che ha preso se n'è andata avanza rompe il muro di scudi gli insegue adesso stanno se ne stanno andando quindi adesso tocca a noi adesso finalmente la battaglia è vinta quindi cosa fa questo pezzo anche degli ascar sassoni avanza e quindi si rompe la formazione senza che arold gli abbia dato l'ordine anzi arold ha dato l'ordine non fate niente del genere questi prendono mano ovviamente c'è il contrattacco della cavalleria normanna lì lì nella zona che alla notizia anche che vogliamo è vivo prende contrattacca e fa un mezzo massacro di questi ascar che si erano buttati in avanti però alla fine i sassoni ricompattono in una regge ok questo è il primo tempo prima puntata delle due perché c'è anche cliffhanger la prima puntata della grande battaglia la seconda puntata settimana successiva c'è una pausa in mezzo non è la pausa del tè perché combattiamo in Inghilterra ma non è non è la pausa del tè non arriviamo a questo però c'è la pausa perché la battaglia sta andando avanti e tutta la gente si immagina anche se benete battaglie medievali ma in generale battaglie fossero la roba da una mezz'ora e via cioè si minano come fortissimi tutti insieme tutti in un stesso momento e poi uno dei due vince l'altro scappa no sono roba lunga di ore cosa si fa a un certo punto si mangia anche perché a un certo punto i due esercii sono anche stanchi quindi hanno bisogno di una pausa appunto per rifocillarsi per bere qualcosa per mangiare eccetera in questa pausa Guglielmo riorganizza gli eserci e ha detto ma l'unica cosa buona di questa mattina di questo eserci la mattina è stato quel problema di quelli che se ne sono andati i sassoni che ci sono venuti sotto e noi li abbiamo contrattaccati eccetera ma se noi lo rifacessimo tutto il pomeriggio infatti parte il pomeriggio seconda puntata nel nostro cliffhanger finale delle ultime due puntate di stagione succede esattamente così gli ormani fanno una serie di cariche poi fingono di essere spinti di scappare un po' di sassoni ci casca vanno avanti e vengono menati e vengono picchiati e appunto vengono massacrati ovviamente quindi ci sono la linea sassone comincia un po' a sbandare quindi l'intera battaglia diventa una strana roba di attrito questa avanti indietro avanti indietro e in tutto questo l'esercito sassone ha dei problemi ma il problema principale arriva a un certo punto del pomeriggio quando si esparge la voce che Harold stavolta Harold Godwinson è stato colpito da una freccia all'occhio e che è morto è stato ferito gravissimamente e poi è morto il problema è che questa volta è vero non è un inganno non è una voce che si esparge nella battaglia come tante volte succede no no stavolta è vero Harold è stato veramente ucciso e a questo punto è la fine perché a questo punto l'esercito sassone prende sbanda completamente che già stava avendo dei problemi ma proprio si disgrega completamente rompe la formazione l'esercito che rompe la formazione nonostante i third fossero stati coraggiosissimi in alcuni momenti avessero anche superito la morte degli Asgard che si erano buttati in avanti nonostante la milizia e si è dato veramente oltre ogni dire no stavolta non ce la fanno e stavolta appunto l'esercito sassone si disperde e la battaglia è veramente persa ci sono una serie di azioni anche di retroguardia anche molto importanti per esempio c'è una che c'è un punto della battaglia che i normanni chiameranno Malfoss la Malfoss la mala fossa la fossa cattiva orribile perché? perché è un punto particolarmente scosceso dove la loro cavalleria carica i sassoni che se ne stanno andando stanno scappando ma alcuni sassoni rimangono indietro i cavalieri romani finiscono in questo fosso e vengono da sopra vengono presi da accettate sassate già vellottate di tutto quella diventa la Malfoss ma al di là della Malfoss la battaglia è persa i sassoni sono stati disgregati è un massacro Harold è morto Guglielmo finalmente sale sul trono in Inghilterra il primo gioco di cui parlerò è un gioco davvero particolare perché è un gioco di carte ed è un gioco di carte che ci fa vivere l'intera campagna passo dopo passo ce la fa ripercorrere tutta integramente fino appunto alla decisiva battaglia di Hastings e questo gioco è Tears Too Many Mothers che è il nome che fu dato in una profezia alla cometa di Alley che si fece vedere nel 1066 e fu presa dai sassoni come presagio di sventura e fu chiamata tu che porterai tu che porterai lacrime a tante madri e poi dopo appunto succederà quello che succederà per i sassoni è un gioco come vedete io vi faccio vedere la parte proprio artistica inutile dirlo è uno dei giochi più belli più artisticamente proprio belli quello era un elmo questo è Harold della mia collezione personale è veramente uno dei più belli che abbia mai visto ed è veramente molto particolare perché con le classiche meccaniche di un gioco di carte da battaglia per carità proprio tipiche ci porta e ci fa rivivere l'intera campagna in una maniera davvero fuori dal comune già dal setup voi lo vedete è proprio veramente un classico gioco di carte da battaglia un battle card game come dicono gli anglosassoni quindi un'idea di un campo da battaglia stilizzato diviso in tre elementi centro e i due lati dove si giocano personaggi si giocano magari le truppe vedete per esempio questi ecco qua questi guerrieri questi Saxon Swordsman con le loro abilità e quant'altro che si confrontano e via ma che cos'è che rende veramente diverso questo gioco lo rende diverso questo elemento qui le carte obiettivo perché vedete A B C D eccetera sono tutte le fasi viste da un lato per i normanni dall'altro per i sassoni eccolo qua dell'intera campagna e prima di arrivare allo scontro queste carte non si combatteranno a Dustings ma dovranno superare le varie fasi per esempio vediamo i sassoni la cometa di Alley e quindi dovranno superare questo obiettivo e poi la battaglia di Fulford vedete è quello di cui abbiamo parlato finora la battaglia di Stamford Bridge e poi la marcia sulla Hermann Street verso Hastings la preghiera nella Volta Mabby per Harold eccolo qua raccogliere le forze Londra e poi alla fine la battaglia di Hastings superando solo dopo aver superato tutte queste fasi ci si potrà scontrare direttamente ad Hastings e lì ovviamente chi vincerà chi otterrà il controllo superando questi wedge vedete eccoli qua mettiamo così in posizione neutrale come sono all'inizio e qui mano a mano verranno conquistati o dal sassone o dal normanno superandone il valore di difesa come attenzione perché ogni carta altra cosa particolare ha un valore di attacco questo collascia proprio un combattimento diretto ma anche un valore di zelo quindi la parte politica la parte diplomatica e poi ovviamente le valore di ferite e poi ovviamente abbiamo i mazzi con altri personaggi momenti della battaglia altre truppe veramente veramente di tutto nella sequenza del turno voi raccogliete le risorse mettete giù le carte le utilizzate per appunto le esaurite per attivare le loro abilità speciali magari per far arrivare altre carte quindi c'è proprio questo senso di adunata di reclutamento di raccolta delle forze finché non si arriva allo scontro finale ma attenzione se una parte se siete magari riusciti ad arrivare prima dell'altro alla battaglia finale avete comunque un vantaggio perché state occupando il territorio quindi avete un vantaggio e l'altro prima di cominciare ad attaccare i wedge quindi tutto le zone del campo dovrà effettivamente dovrà effettivamente correre e superare gli altri gli altri ostacoli è veramente un gioco con una tensione dinamica notevolissima un aspetto artistico meraviglioso e ripeto questo continuo battere i batti metto giù la carta mi scontro però lo scontro è anche la parte di zero per superare questi obiettivi quindi questa progressione veramente notevole con un contenuto storico eccezionale ok ce lo siamo detto questo gioco intanto prima cosa è bellissimo ho io ora anche per farvi vedere un po' quello che arriva se si riuscite a recuperare una scatola perché non è facilissimo di recuperare purtroppo però diciamo ecco questo è su di un panno verde classico ma se le trovate ci sono anche i matt per appunto con tutte le scene della battaglia proprio con le zone perché i matt perché prima cosa oltre ad essere un gioco statisticamente meraviglioso questo gioco è il primo di una serie ne è stato fatto un altro sulla battaglia sulla serie di Malta e un altro ancora un terzo sulla battaglia di Waterloo addirittura sempre con lo stesso sistema l'età per la progressione che è veramente una cosa che a me piace tantissimo che fra l'altro ha anche un valore didattico veramente veramente notevole ora è chiaro che queste diciamocelo chiaramente queste illustrazioni sono bellissime alcune hanno detto beh sono un pochino fantasy questo si nota soprattutto in quello di Waterloo che sinceramente sono forse un film esagerato ma l'illustratore tristano che anche l'autore del gioco ci ha regalato queste immagini bellissime sì non sono precisi dal punto di vista storico sono d'accordo però sono belle è inutile da dire questo è un gioco veramente che ha un colpo d'occhio eccezionale e appunto ha questa progressione e io credo soprattutto qui in questo di Hastings che è il primo della serie veramente è fantastico è veramente fatto molto bene si vede che è stato pensato per questo anche gli altri sono belli ma questo è veramente secondo me è fatto bene fra l'altro ha anche una modalità per il solitario dedicata sia per giocare con i sassoni che con i normanni e poi è un gioco di carte quindi è una continuo batti e ribatti bello bellissimo molto molto semplice rapido direi in una rete fate una partita poi potete fare una partita successiva a parte invertita ma vi butta nella storia con un dettaglio che non è così scontato con tutti i singoli episodi ogni obiettivo dei suoi dettagli le sue cose scoprite anche tanti personaggi secondari che non conosciamo tanti in momenti della battaglia sì c'è il momento in cui Guglielmo si tira via l'elmo per dire no sono ancora vivo ma ci sono anche tanti che per esempio Remiglius de Fecan e chi lo conosce però invece qui c'è tutta quanta la storia a meno del cobedettino che ha aiutato Guglielmo quindi ci sono tanti aspetti molto particolari che vengono fuori un gioco veramente sorprendente semplice immediato diretto un gioco di carta e male con un prodotto storico veramente sorprendente bene dopo aver visto gli aspetti strategici anche politici dell'intera lunga campagna tra normani e sassoni e norvegesi per il controllo dell'Inghilterra andiamo a vedere le singole battaglie le singole battaglie ovviamente entriamo nell'ambito del wargame in questo caso proprio classico con esagoni e pedine però in particolare con molti twist di innovazione la serie Man of Iron che da molti è considerata lo standard per il wargame medievale la serie è opera di Richard Berg che purtroppo il compianto Richard Berg che purtroppo ci ha lasciato e infatti questo modulo è il primo modulo di questa serie che è stato fatto uscire postumo della casa editrice alla GMT quindi autori e sviluppatori in questo caso Ralph Shelton della GMT hanno continuato l'opera di Berg adattando il sistema che partiva dalla guerra dei cent'anni guerra delle due rose le crociate e quant'altro riportandola all'indietro in questa campagna poi in altre campagne dell'inizio della storia di Regno in Inghilterra è un wargame però attenzione l'abbiamo detto con molte innovazioni moltissime interazioni assolutamente imprevedibile molto bello molto giocabile con molti scenari nella scatola che adesso andremo a vedere lo scenario che andiamo a vedere è quello di Stanford Bridge vi ricordate lo scontro tra Harald Ardrada e Harold d'Inghilterra ma insieme c'era anche il fratello di Harold Tostig appunto lo scontro prima di Hastings che appunto ci spiega bene un po' anche come funziona il sistema ovviamente vedete qui i leader i leader sono appunto in questo caso vediamo qui Tostig da una parte e Re Harald Ardrada della Norvegia e dall'altra abbiamo Re Harald eccolo qui con tutti quanti i suoi vassalli i suoi nobili vassalli quindi lo schieramento dei norvegesi qui la lunga linea dei sassoni a Stanford Bridge bene come funziona il gioco beh allora la particolarità essenziale di questo gioco come vedete questi colori diversi all'interno della testa esce domenica e queste sono le battaglie cioè le formazioni diciamo così le divisioni in cui erano formati tradizionalmente organizzati gli eserciti medievali in ogni impulso quindi non turno in ogni impulso voi attivate una delle vostre battaglie cioè tutte le unità di un colore quindi per esempio potete attivare o le unità se siete i norvegesi un'unità di Harald o l'unità di Tostig dopo che le avete attivate fate i movimenti fate i combattimenti ma attenzione cariche controcariche tiri di reazione da parte gli eccelli nemici non è che si muove tutto uno e poi tutto un altro no no qui c'è un'interazione continua ad ogni azione può venire fuori può partire una reazione dell'avversario quindi il coinvolgimento è continuo non c'è down time in questo in questo gioco bene dopo che avete finito la vostra attivazione tirate potete decidere ok voglio continuare quindi provo ad attivare il minu un altro comandante l'altra battaglia ho cominciato con Tostig posso cominciare voglio vedere dopo che ho attivato Tostig di attivare Harald dovete fare un tiro comando se il tiro comando riesce bene se no il turno passa direttamente all'avversario quindi è imprevedibile ma l'avversario attenzione a queste qua le cosiddette seizure cioè tentativi di intercettare la vostra di bloccare la vostra seconda attivazione ha pure appunto una seizure opportunity oppure magari far partire degli eventi particolari degli eventi speciali a seconda dello scenario la scatola contiene Fulford Stanford Bridge Hastings ma poi anche tante altre battaglie dell'inizio della prima fase del regno d'Inghilterra della controlla normanno sul regno d'Inghilterra quindi vedete è assolutamente imprevedibile gli scontri come si gestiscono si fa un primo modificatore con questa matrice incrociando l'attaccante con il difensore come vedete con le tipologie ottenendo modificatori più altri modificatori eccetera e poi tirarlo con un dado da dieci su un'apposita tabella infine chi vince nello scenario beh chi manda per primo in rotta l'avversario ma come si fa quando vedete c'è questa tabella e questa tabella c'è dei punti di rotta quando vi avvicinate cominciate a tirare col dado se il tiro del dado con il numero delle perdite che avete subito arriva al punto di rotta il vostro esercito va in rotta quindi anche alla fine è variabile in questo gioco veramente emozionante veramente interattivo non c'è nulla di certo e ogni scenario è diverso dall'altro e ogni volta che giocherete uno scenario sarà diverso dalla volta precedente con questa rapidissima di esamina veramente io ho appena toccato la superficie di questo sistema che è bellissimo questo sistema quello era l'unico problema che non è assolutamente complesso ma è un po' elaborato ha tanti modificatori e tante regole sotto regole eccezioni intuitive per carità ma che sono legate ai singoli scenarelli singole epoche tant'è che ne esiste un tripac che fa uscire le prime tre uscite del sistema molto bello è un po' elaborato non complesso ma elaborato ricco di casi e di particolarità poi è nascito anche un quarto volume che è Archibus sul rinascimento che è ancora più elaborato ovviamente visto che introduce anche le armi di fuoco e tante altre cose che cosa qual è il bello di Norman Conquest che è questa scatola beh Norman Conquest riporta il sistema la sua essenzialità più pura anche con scenari con meno unità ma molto molto coinvolgenti molto appaganti e quindi vi porta veramente nel cuore dell'azione partendo con Norman Conquest che è assolutamente approcciabilissimo imparate proprio le basi del sistema poi potete affrontare tutto il resto come ho detto ci sono tanti scenari o in rete trovate alcune a parte gli inevitabili errate ma lasciate perdere alcune discussioni no ma la mappa qui poteva essere fatta meglio secondo me il fiume c'era oppure non c'era c'era tra secondo delle fonti naturalmente noi qui parliamo di battaglie del undicesimo dodicesimo secolo quindi è chiaro che le fonti sono molto discordanti però il sistema è così semplice che lo si modifica in un attimo se volete seguire la versione di questo di quell'autore anche questo è il suo bello è assolutamente un bellissimo wargame classico tradizionale ma approcciabilissimo le partite durano soprattutto questi primi finali della campagna romana e perfino Hastings penso un paio d'ore al massimo ma questi un'ora lì tranquillamente li giocate molto divertenti molto coinvolgenti molto movimentati proprio quelle battaglie ma rende bene anche il livello la dimensione tattica la carica la controcarica quindi vedete che la battaglia medievale giustamente raffigurata in questa serie non è come l'abbiamo visto nei film scorrono tutti verso il mezzo si menano tutti nel mezzo no è molto molto particolare è molto elaborata anche perché cavalleria si c'è ma non ce n'è tantissima quindi veramente poi c'è lo shield poi c'è una marea di regole specifiche per il muro di scudi per tutte queste cose di quest'epoca meravigliosa poi gli eventi i rinforzi i seizure quindi veramente emozionante coinvolgente e assolutamente accessibile a tutti bene per l'ultimo gioco di questo episodio ho voluto fare ricorso ad un titolo speciale che è Dark Ages Britannian France Dark Ages Britannian France è un gioco a scenari su battaglie del medioevo in particolare del medioevo della storia inglese e francese ed è un gioco italiano della italiana WBS We Build Smiles che ultimamente stavendo i titoli verrete molto belli molto molto apprezzati questa è una produzione di qualche anno fa che contiene un gioco di battaglie appunto che contiene scenari tutti gli scenari di cui mi ho parlato in questa campagna quindi Romani Contro Sa sono i più diversi scenari della guerra dei cent'anni e anche delle guerre di indipendenza scozzesi quindi sì quelli di Wallace Robert Bruce eccetera quindi benissimo li conosciamo tutti anche grazie al cinema Dark Ages è classificato ed è definito un gioco ibrido perché come vedete ha esagoni segnalini e quindi un gioco di battaglia infatti è finito ma ha anche elementi di Eurogame quindi Eurogame ci avvicinano anche l'Eurogame i blocchetti di legno per definire la quantità delle truppe le carte le carte ordini che vi permettono appunto di vedere ordine di vedere diverse azioni durante la battaglia come andranno insomma tutti questi sistemi messi insieme è un gioco che appunto secondo me rappresenta bene in una maniera estremamente semplice estremamente accessibile l'andamento generale delle battaglie medievali quella che vediamo qui è ovviamente la battaglia di Hastings quindi per una volta sono in blu i sassoni asserriati sulla Senlac Hill cioè sulla collina di Senlac e qua sotto i normanni pronti a caricare il cuore del sistema di gioco l'ho detto è veramente semplice ed essenziale in pratica come vedete ogni unità ha un suo segnalino ci sono anche leader però in generale l'unità prendiamo questi sergenti a cavallo vedete la tipologia il valore di attacco il valore di difesa il valore di morale insomma i valori tutti i valori che servono i valori di movimento e quant'altro e questi ce li avete immediatamente davanti davanti agli occhi come funziona il turno il turno è a round alternati in cui ci si muove e combatte praticamente i giocatori all'inizio hanno una mano di carte che sono queste qua eccole qua che come vedete hanno diversi diversi effetti queste carte possono essere giocate per determinare quante unità attiveremo in un impulso prima un giocatore poi l'avversario oppure per far partire l'evento proprio come un card driven l'ho detto che è un gioco ibrido quindi e gli eventi rappresentano cose molto particolari abbiamo sì le finte ritirate abbiamo gli arcieri abbiamo le cariche di cavalleria abbiamo gli ordini che non arrivano quindi insomma tutti gli aspetti più eterogenei della battaglia il movimento è semplicissimo il gisimone del valore di movimento anche ovviamente secondo il valore dei terreni fin qua siamo in wargame puro senza problemi il combattimento è particolare perché vedete questi blocchetti questi blocchetti determinano la forza dell'unità e quando si attacca una unità nemica entrambi i giocatori tirano e vedono il loro valore di attacco e il loro valore di difesa sono i valori che devono fare col dado quindi per esempio il billman qui appunto con gli antenati delle bar dei bill in attacco colpiranno a tre o più in difesa colpiranno al cinque o più naturalmente ci sono tutta la serie di modificatori leader e quant'altro quanti dadi si tirano si tirano quanti dadi colorati ci sono perché perché per ogni colpo che voi assestate all'avversario uno di questi dadi colorati si trasformerà in un dado grigio quindi in un dado disorganizzato per ogni due colpi il cubetto verrà proprio completamente completamente eliminato poi ci sono assalti a distanza assalti ravvicinati cariche con vari modificatori per tutto questo sta nelle regole e durante il combattimento cosa potete fare potete utilizzare se le avete delle carte un po' particolari per esempio evitare che unità vadano in rotta perché ci sono anche testi ritirati eccole qua le ritirate le finte ritirate ne abbiamo parlato prima quando parlavamo della battaglia di Hastings quindi tutti questi effetti continui e che voi avete in mano che potete giocare però attenzione se una carta era giocata per l'evento significa che non farete l'attivazione dell'impulso successivo perché il turno termina quando o tutti e due i giocatori hanno passato oppure entrambi i giocatori non hanno più carte in mano perché le hanno usate tutte quindi qui c'è da gestire questa cosa un'altra cosa che si può fare è naturalmente recuperare dei blocchetti che siano stati persi con l'azione di recupero si tirerà una carta si vede questa che è la cosiddetta pietra della fortuna così denominata e sulla base di quanti segni ci sono tanti cubetti possono essere ripresi altra cosa mandate i vostri leader all'attacco beh attenzione perché possono essere uccisi con diversi con diversi effetti al termine del turno le unità che sono state in rotta che sono state mandate fallendo il morale indietreggio e poi le mani vengono riportate la mano di carte viene riportata e si parte con il turno successivo già da questa primissima indiscrizione veramente molto sommaria di com'è un po' l'andamento del gioco quantomeno avrete capito che ci troviamo di fronte ad un gioco assolutamente godibilissimo accessibile pronto veramente per essere giocato e assolutamente per tutti ci sono tantissimi scenari della scatola WBS sta pensando ad altre espansioni e anche ad alcuni scenari che sono distribuiti gratuitamente il gioco non è facilissimo da trovare perché ovviamente la tiratura non è stata elevatissima ma se riuscite a trovarlo prendetelo anche perché la componentistica è veramente di di primo ordine e diciamo la sensazione è quella di trovarsi ad un gioco che ha forse anche meno della complessità facciamo una complessità paragonabile a come se il corso senza romero 44 senza però tutte le distorsioni il fianco destro il fianco sinistro eccetera qui voi attivate tutte le unità che volete o meglio tutte le unità che potete sulla base della carta non soltanto tot a destra tot a sinistra o un po' al centro tutta la cavalleria al centro queste cose quindi c'è un controllo maggiore ma allo stesso tempo ci sono le carte che sono sempre sotto il vostro controllo e che voi potete decidere come e quando far partire e quindi anche qui un bilanciamento continuo attenzione poi che alcuni scenari sono a tempo includono anche delle carte che se giocate fanno scorrere un po' l'orologio diciamo della giornata e anche questo è un altro aspetto molto interessante quindi hanno una durata durata variabile è un gioco che è assolutamente perfetto per cominciare la vostra avventura nel mondo del world game molto molto bello la dinamica le dinamiche fondamentali delle battaglie medievali ci sono bisogna mantenere le linee perché se poi si rompono le linee il nemico comincia a infiltrarsi da tutte le parti è veramente molto bello assolutamente bellissimo anche per i giocatori più giovani veramente le prime armi è un grandissimo prodotto a me fa piacere anche che sia un gioco italiano e attenzione perché veramente ha tantissimi scenari tutti gli scenari di questo episodio sono presenti nella scatola Dark Ages Britannia and France ora questa battaglia questa sconfitta dei Sassoni è arrivata in in un modo avete visto una storia incredibile anche sia l'intera spedizione la cometa tutte le cose i pretendenti al trono e poi anche la stessa battaglia tutti questi episodi però almeno come ci sono stati narrati noi alcune cose le dobbiamo prendere un po' per buone però possiamo anche pensare che in buona parte siano vere insomma che sia andata effettivamente così questa battaglia segna lo spartiacque questa sconfitta drammatica dei Sassoni farà in modo che per secoli i Sassoni che sono la popolazione numericamente dominante in Inghilterra si sentono dominati da degli occupanti stranieri i Normanni almeno per un secolo buono poi andando avanti ci sarà l'amalgama ovviamente perché i Normanni con Guglielmo conquistatore si piazzano lì rimangono lì e alla fine si amalgamano con la cultura Sassone anglo-sassone e dirà fuori un incrocio strano questo è importante perché l'Inghilterra in questa maniera si avvicina in effetti l'Europa perché i Normanni erano molto vicini al re di Francia e al resto d'Europa quindi c'è questa commissione ma non saranno mai del tutto totalmente europei continentali vedete che alcune cose durano anche oggi quindi ci sarà questa cosa ed è molto molto importante nasce questo unicum questa cultura unica veramente anche nella lingua perché l'inglese ha moltissimi pezzi di francese rispetto alle altre lingue di derivazione Sassone perché? perché sono stati questi benedetti normanni ora fin da Guglielmo che poi continuerà a fare lotte contro vari altri Sassone anche altri pretendenti normanni insomma tante cose bene Guglielmo cosa fa però consolida il suo regno è un re non è particolarmente carino simpatico e gentile ma è un re molto accorto e da un lato apre molto al commercio l'intero suo nuovo dominio dell'Inghilterra addirittura anche l'afflusso della popolazione ebraica lui e suo figlio che poi gli succederà al trono Guglielmo detto il rosso apriranno molto agli ebrei in Inghilterra e ci saranno fortissime presenze ebraiche in Inghilterra anche e soprattutto grazie ai loro due e due Guglielmi ma anche non solo questo aspetto commerciale ma e in supporto a questo aspetto commerciale anche una profonda riforma amministrativa Guglielmo farà redigere il Dom's Day Book cioè il libro della fine del mondo non è l'apocalisse ma è un registro preciso proprio dalla fine del mondo quando arriva alla fine del mondo dobbiamo fare l'appello sapere chi c'è e che cosa bene un registro preciso di tutti coloro che sono in Inghilterra e di tutti i loro possedimenti e questo permette la creazione di un apparato amministrativo molto potente che vi assicuro sarà fondamentale nei secoli successivi sarà uno dei plus dei bonus che avrà questa terra bene tutto questo lo dobbiamo a Guglielmo il conquistatore che alla fine è un re davvero particolare diventa re in Inghilterra e naturalmente indovinate un po' a questo punto dice se io sono re in Inghilterra re di Francesco oh buono ma tu ripartito duca di Normandia ma vuoi essere re d'Inghilterra e da lì partiranno tutta una serie di problemi che sono tutta un'altra storia che vedremo anzi sicuramente in altre puntate però a parte questo bene partirà questo rapporto molto problematico con la Francia ovviamente ma anche questo nuovo capitolo fondamentale della storia d'Inghilterra e tutto in virtù di una persona per l'operato e anche per il genio sia militare che anche politico nell'organizzare tutta questa bella spedizione di un uomo solo un uomo che partì dalla Normandia come Guglielmo il Bastardo e arrivò in Inghilterra e vinse in Inghilterra diventando Guglielmo il Conquistatore e questa è una delle grandi storie che mi piace raccontarvi mi è piaciuto raccontarvi in grandi manovre anche per questa puntata il nostro versione del tempo nella storia e nei giochi che ci aiutano a riviverla finisce qui io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima puntata di Grandi Manovre ciao Guglielmo Guglielmo Guglielmo